Musica Cosa ne pensa del Don't View Steam Online? Il video guarda lì, eh sì, e diciamo che ci sono rimasto piuttosto male perché era un bel gioco E no, dovrei riparare più presto secondo me perché io ci sto più assiccato della mosca Sai che Terra Maledetta è down, che cosa mi dici? Pop, senza dubbio Ultimo line? Cos'è se l'ultimo line? Io so solo vecchio proverbio cinese Non rompete i coglioni E l'ultimo, un bel gioco di balai Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti